Consigliamo alle famiglie di consumare pasta di grano 100% italiano, di informarsi per essere sicure di quello che mettono in tavola e fanno mangiare i propri figli. La battaglia in difesa dei produttori cerealicoli, dei consumatori del nostro paese passa proprio da questo. Vogliamo trasparenza perché la vera pasta italiana è solo quella prodotta col grano 100% italiano. A lanciare l'appello è Gennaro Sicolo, il presidente di Cia Puglia e vicepresidente nazionale della Confederazione di Agricoltori Italiani e mette l'accento sulla questione dell'autenticità e della qualità della filiera grano-pasta. Ed è per questo che alla sitina di protesta che si terrà lunedì 11 settembre a Bari vedrà insieme i cereali coltori pugliesi di tutta la Puglia, Cia, agricoltori, inviterà anche famiglie e consumatori di pasta 100% italiana. Questa protesta e le ragioni che illustreremo nella conferenza stampa che terremo al varco della vittoria posto all'ingresso del porto di Bari non riguardano soli i cereali coltori italiani strozzati dalla speculazione globale che si è scatenata con un massiccio aumento delle importazioni, spiega Gennaro Sicolo, il presidente di Cia Puglia. Questa è una battaglia che interessa il sacro santo diritto dei consumatori a esigere trasparenza sulla salubrità e la provenienza dei grani che vengono impiegati per produrre la pasta. Alle famiglie consigliamo di consumare pasta di grano 100% italiana. È una battaglia che l'organizzazione presieduta appunto da Gennaro Sicolo conduce da sempre e che è stata ulteriormente intensificata dallo scorso 14 aprile quando sono state lanciate una vera e propria campagna, una petizione nazionale capace di raccogliere ben 70.000 firme. Infine la Cia lancia l'invito ad essere presenti tutti a Bari lunedì per una grande manifestazione che riunirà tutti i cerealicoltori pugliesi, un sitino e una conferenza stampa per tornare a chiedere misure che tutelino i produttori cerealicoli e consumatori italiani. Una task force che verifichi il DNA, la provenienza e la salubrità dei grani che arrivano nei porti d'Italia e l'attivazione del registro telematico del pacchetto di azioni previste dal programma Granaio Italia. Alla manifestazione sono stati invitati e parteciperanno numerosi sindaci, consiglieri, assessori regionali, parlamentari e anche gli europarlamentari. Una manifestazione che tocca il cuore degli italiani. Grazie a tutti.